Due giorni con dei valori alti per quel che riguarda le polveri sottili in Abruzzo, dati rilevati dalle centraline dell'Arta che hanno registrato superamenti del valore limite di 50 microgrammi per metro cubo, con il picco di 119 registrato alla stazione di Porta Reale di Teramo il giorno 24 febbraio. Valori possibili magari a causa di fenomeni di trasporto naturale di polveri su lunghe distanze in Italia, coerente con valori registrati anche in altre regioni. Alcuni giorni prima la rete aveva registrato invece valori normali, poi innalzati ovunque il 23 febbraio scorso, con lievi superamenti all'Aquila nei pressi dell'ex motel Amiternum e a Teramo nella stazione di Porta Reale per raggiungere il giorno dopo i picchi. Valori rientrati il giorno successivo con i valori tornati alla normalità nel capoluogo e a Castel di Sangro. Episodi del genere, secondo l'agenzia, possono essere frequenti. I superamenti dovuti a fenomeni di origine naturali non sono considerati di inquinamento atmosferico chimico-industriale, ma l'ARTA ovviamente continua a monitorare, significa pure che i loro sistemi di controllo funzionano. Direi una efficienza della rete di monitoraggio abruzzese che è una delle missioni dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Monitorare la qualità dell'aria è un compito fondamentale per poterci preoccupare della salute dei cittadini. La preoccupazione può derivare da un tipo di inquinamento derivante da attività antropiche, l'inquinamento che è relativo alla circolazione dei veicoli o alle caldaie nei periodi freddi dell'anno. Direi che il fenomeno che ha occupato l'Abruzzo in questo periodo e non solo l'Abruzzo ma anche altre regioni è invece relativo al movimento di sabbie in circolazione, nel senso del circolo aereo, che vengono spostate a causa di fenomeni meteorologici. Direi che non desta delle particolari preoccupazioni, anche se i nostri tecnici stanno prelevando i filtri degli impianti di monitoraggio per sottoporli ad ulteriore verifica in laboratorio.